Quindi, parliamo della Luna. La scienza tradizionale dice che è il satellite della Terra con un diametro di appena 2160 miglia o circa 3500 chilometri. Ci dicono che è la Luna che causa le maree sulla Terra usando la sua tecnica speciale, la gravità. Ho alcuni problemi in toto con questa cosa della marea dalla gravità. Se la gravità della Luna è così forte da attrarre milioni di tonnellate d'acqua attorno alla Terra, come fa a fermarsi qui senza tirarla fuori dalla Terra? Non c'è alcuna ragione di aspettarsi che non continui a tirare l'acqua verso se stessa. Com'è possibile che decida di attrarre oceani di acqua, ma quando la Luna è sopra di noi potete lanciare dell'acqua in aria e non succede niente, semplicemente cade a Terra. Ma non c'è solo il problema della gravitazione selettiva, ma la gravità della Terra è almeno sei volte più potente della Luna in primo luogo. Come fa la gravità della Luna a vincere la presa della Terra sui suoi propri oceani? E se la gravità della Luna è così forte da attrarre gli oceani attorno, nonostante gli oceani siano attratti dalla forza gravitazionale della Terra, come mai la Luna non ha anche lei la propria atmosfera? Ci raccontano che la Terra usa la propria gravità per mantenere la sua atmosfera bloccata alla sua superficie, quindi perché la Luna non ha la propria atmosfera? Ovviamente la Luna si è formata 4,5 miliardi di anni fa, dopo che una roccia spaziale si impattò sulla Terra staccandone un grosso pezzo che di seguito diventò una palla, perdendo tutte le sembianze terrestri. Ma questo grosso pezzo di Terra che galleggiava via doveva avere la propria attrazione gravitazionale? E non sono in grado di capire come mai questa attrazione sufficientemente forte per muovere gli oceani non è stata sufficientemente forte per mantenere la sua piccola quantità di atmosfera quando è andata alla deriva fino alla sua orbita. Senza parlare che se la Terra tiene la Luna nella sua orbita, allora che ne è di quella maledetta roccia spaziale? Ancora una cosa, perché la Luna non ha la sua ombra durante il giorno. Ogni oggetto fisico che possiamo vedere con i nostri propri occhi ha l'ombra. La Luna non dovrebbe avere eccezioni, però durante il giorno la Luna si suppone che flutti là nello spazio senza la sua parte scura nella parte dietro, senza parlare che le lune nuove non hanno silhouette perfette nel nostro cielo mentre il sole brilla quasi giusto dietro di esse. Infatti anziché avere la parte dietro ombreggiata, qualche volta la Luna si vede splendere perfettamente dalla parte opposta alla direzione del sole. Spero che queste osservazioni creino alcuni dubbi su quanto afferma la scienza ufficiale. La Bibbia dall'altra parte dice che la Luna è la luce all'interno del firmamento col proposito di illuminare e di misurare il tempo. Questo è quanto si osserva scientificamente e questo è quello che credo. Grazie di aver guardato, ci vediamo la prossima volta. Appendici per i liberi ricercatori. Vi ricordo che quanto ci viene insegnato, e non c'è alcun insegnante a sua volta che interroghi se stesso, perché è importante non mettere in discussione nulla sulle anomalie che propina agli allievi. Prendo spunto da questo video. Com'è possibile che ci ficchiate dentro al cervello nozioni teoriche? Ci fate perdere preziose ore di immagazzinamento dati per lavorare su ipotesi. Maledizione è esattamente come dopo una partita di calcio dove stanno ore ed ore a discutere delle ipotesi che potevano succedere durante la partita. E voi, lo dico col cuore, poveri imbecilli, state lì ad ascoltare ore e ore senza nemmeno sapere che state sprecando le ore della vostra vita nel continuare a supporre. Poraci, com'è possibile studiare le teorie? Teoria della fissione, teoria della cattura, teoria dell'accrescimento, teoria dell'impatto gigante, stiamo parlando della luna, ma scrivete anche la teoria della Bibbia a questo punto e la teoria del contadino che dice che va di corpo meglio quando c'è la luna piena. Questa è la scienza del cucù e la gravità per chi ancora non è andato a fare le sue proprie personali ricerche è una teoria, non è stata dimostrata e non lo dico io, lo dice la vostra divina rivista, La Repubblica, nella pagina Scienze e lo stesso vale per la relatività, si chiama ancora oggi teoria della relatività. Assunto, è tempo buttato al vento a studiare su teorie per chi desidera conoscere veramente, è tempo prezioso per chi vuole indottrinare e tenere a dormire le persone. Buone cose a tutti e a tutte, come sempre. Buone cose a tutti.